Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Lab 2101 Affari Italiani di oggi. Martedì 10 settembre, Fratelli d'Italia al 29,1, cresce dello 0,2, la Lega cresce dello 0,1 al 9,4, Forza Italia scende dello 0,2 all'8,8, Noi Moderati guadagna lo 0,1 allo 0,8, Totale centrodestra più 0,2 al 48,1%. Il Partito Democratico meno 0,1 al 22,9, Movimento 5 Stelle cresce dello 0,2 all'11,2, Alleanza Verdi Sinistra cresce dello 0,1 al 5,5, Totale centrosinistra più 5 Stelle 39,6% in crescita dello 0,2. Azione 3,5, Italia Viva 2,4, più Europa 2,2, Sud Chiamanord 1,6, altri partiti 2,6. Grazie a tutti e arrivederci a presto.